In protesta fuori dalla temporanea sede del Comune, perché? Siamo qua in via Capur, davanti alla sede dove viene fatto il Consiglio Comunale a causa della indisponibilità della sala classica del Salone del 200, perché vogliamo rispetto, diritti e dignità. Cosa significa questo? Significa che abbiamo i contratti, che oramai sono anni che sono fermi, non c'è volontà di rinnovare i contratti. Il nostro fondo per il salario accessorio non è stato ancora costituito per il 2015, dobbiamo avere ancora la produttività per il 2014. Insomma, noi pretendiamo rispetto, perché noi siamo gente seria. Fra l'altro questo Comune, come tanti comuni in Italia, se va avanti è grazie all'impegno in alcuni momenti anche volontaristico dei dipendenti. Perché dice volontaristico, non vi pagano gli straordinari? No, non è questo il punto, è che noi siamo impegnati a mandare avanti il nostro lavoro con degli sforzi che vanno al di fuori anche le nostre possibilità, con mezzi inadeguati, siamo sempre meno, sempre più anziani. Cioè, dove vogliamo andare? Avete in mente un progetto? E fatecelo sapere! Grazie! Grazie!